Buongiorno e benvenuti all'Agrilor, io sono il proprietario azionario dell'Agrilor, il mio nome è Emanuele Perlea, sono fribourgeo d'origine e ho avuto 55 anni. Buongiorno, benvenuti alla cantina di Agrilor, in questa magnifica cantina. Io sono Francesco Tettamanti, direttore operativo dell'azienda. L'azienda Agrilor è un'azienda veramente molto particolare, anche a livello ticinese. Sulle due tenute coltiviamo 22 ettari di vigna, ma contrariamente al classico stereotipo ticinese che tutti legano al Merlot, noi coltiviamo e vinifichiamo ben 29 vitigni diversi e oltre a ciò abbiamo anche una collezione appellografica, una collezione di vitigni di quasi 500 varietà in prova che vengono da ogni parte del mondo. Dopo 1994 abbiamo fatto il primo vino, abbiamo venduto il raisin e là abbiamo fatto il primo vino, quindi il Merlot Riserva dell'Eure e il Sottobosco, che è un'assemblage di Merlot e Cabernet Sauvignon. E ci troviamo qui alla tenuta alla Prella, che è arrivata più tardi, nel 2002, a far parte di Agriloro. Qui abbiamo una grande prevalenza di Merlot, che è circa l'80%, e poi abbiamo anche, comunque, visto la nostra tradizione, una buona serie di altri vitigni, lo Chardonnay, il Gammaret, il Marzellan, il Galotta, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Se volete visitare la nostra azienda, chiamateci telefonicamente o scriveteci una mail e saremmo ben lieti di accogliervi e mostrarvi cosa facciamo di meglio. E poi, visto che siamo anche nella terra, oltre del buon vino, anche del buon cibo, sapremo certamente consigliarvi un buon ristorante, un buon grotto nella regione. Ce ne sono moltissimi. Grazie a tutti.